Buongiorno, Siamo ben svegliati e bentornati a Prima di Tutto. Questa mattina nel corso della nostra trasmissione vi presentiamo il libro Una tranquilla cittadina di paura, scritto da Enzo Misuraca e Davide Rosci. Poi parleremo di teatri paralleli con Ottaviano Taddei e infine, come ogni mercoledì, ritroveremo i nostri amici Mario Lamberti e Ida Capuani. Ma cominciamo subito, intanto andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore e poi la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo. Al mattino nuvoloso con deboli piogge, nel pomeriggio molto nuvoloso coperto con locali fenomeni temporaleschi, specie lungo la dorsale appenenica, tra sera e notte coperto per nubi alte stratificate con deboli piogge, specie sulle zone interne. Temperature stazionarie massime comprese tra 19 e 22 gradi nelle conche aquilane marsicane, tra 23 e 26 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli settentrionali, mari calmi o quasi calmi. In provincia di Teramo, giornata dal tempo molto instabile, nubi e primi rovesci sparsi già dal mattino. Nel pomeriggio possibilità di temporali su gran parte del territorio, specie sui settori interni, dove saranno possibili fenomeni anche di moderata forte intensità, tra sera e notte piovaschi in attenuazione. Temperature stazionarie massime comprese tra 22 e 25 gradi nelle panure dell'entroterra, tra 23 e 26 gradi sulle coste, venti deboli o moderati settentrionali, mari poco mossi. Ed eccoci alla rassegna stampa, iniziamo con il quotidiano Il Centro. Mazzette sui cantieri delle chiese, appalti della ricostruzione all'Aquila, 5 arresti e 12 indagati. E poi nelle cronache, Team spunta il nome di De Julis per la presidenza. Costa Teramana, servizi spiaggia e alberghi a costi contenuti. La cronaca, arrestato con un chilo di cocaina, opera incensurato, spacciava droga. Per la Teramo, bene. E poi ampio spazio ovviamente allo scandalo, all'ennesimo scandalo legato alla ricostruzione post-terremoto all'Aquila. Mazzette all'Aquila, l'inchiesta appalti nelle chiese, 5 arresti. Neguai, Marchetti, ex braccio destro di Bertolaso, perquisito l'ufficio di Magani. E poi quando sbagliano i controllori, le storie dei funzionari infedeli. I vescovi dallo zio Letta. Vogliamo decidere noi le mosse di Dercole e le pressioni per ottenere l'affidamento diretto dei lavori. Lettera consegnata all'imprenditore Vinci. Se fanno sta cosa, facciamo bingo. La mazzetta pagata in un locale di Carsoli, filmata la consegna della busta bianca dall'imprenditore a Marchetti che la passa alla Mancinelli. E ancora la firma falsificata del prete in fin di vita, Santa Maria Paganica, spunta il raggiro ai danni dello scomparso Narduzzi. L'imprenditore Vinci intercettato, il lavoro da 19 milioni diventa di 40. Quando, e ancora siamo sempre sullo scandalo delle mazzette all'Aquila, il personaggio chiave, quando Marchetti mise le mani sui beni culturali distrutti dal sisma. Quei video pagati che nessuno vuole, la denuncia del filmmaker, cancellerò le tantissime immagini girate sulla messa in sicurezza. Abruzzo, oggi, ora gli eletti ci sono tutti, in giunta il nodo delle deleghe. Alessio Monaco, di ragione facile, entra al posto di Antonio Inaurato, del PD e d'Alfonso, mette a punto il mosaico dell'esecutivo. Oggi, al massimo domani, ci sarà l'annuncio. Poi maturità si inizia con il tema, in Abruzzo 11 mila sono i candidati. Caffè salgono i costi, ma le aziende assorbono i rincari. Teramo, il blitz, un chilo di cocaina per la Teramo Bene, la polizia arresta un operaio teramane incensurato. In casa nascondeva tre panetti di droga purissima. Processo Saccuti, dopo la ricusazione slitta l'udienza. Violentata dallo zio, la sorella conferma il processo ad un ottantenne accusato di aver abusato della nipote. Nuove testimonianze in aula. Serata di beneficenza destinata ai disabili, giovani imprenditori uniti, nel segno della solidarietà. E la serata si terrà sabato 21 al Nova Vita Beach di Giulia Nova. A Campli, polemica sui conti. L'ex sindaco, nessun buco milionario, Agostinelli dice. È falso. Al via il concorso a fumetti, il romanzo, il vaso di Pandora. L'aggiunta, accordi e numeri, brucchi, gioco e incasto tra assessorati e Team. La presidenza della società è candidato. L'attuale consigliere Corrado De Julis. Tra i nuovi 9 assessori, certa solo la conferma di Rudy Di Stefano. A Morrodoro, il nuovo sindaco, sceglie l'ex come assessore ed è polemica. In Piazza Martiri, ieri c'è stato il tour cost to cost di Radio DJ. Spiaggia e hotel, prezzi contenuti per Tribago. La costa Terraman è la più economica, niente aumenti per Ombrelloni e Sdraio. La festa della famiglia, l'immagine che vedete pubblicata sul centro, è la vincitrice del concorso fotografico. Andiamo a vedere le altre notizie. Dalla costa al Badriatica, il maltempo mette in crisi la spiaggia. Ostruito qualche sbocco a mare delle acque piovane, alcuni balneatori costretti ad arretrare le file degli ombrelloni. Nasconde eroina in bocca, scoperto a Martinsicuro, denunciato tunisino, accusato di spacciare sul lungomare. Croce rossa di Giulianova, raccolti alimenti per le famiglie di Alba Adriatica. Pesca abusiva delle vongole al porto e bagarre per le multe. Gli armatori non aderenti al cogevo alzano la voce dopo essere stati sorpresi a pesca con l'elica. Ancora una volta noi siamo penalizzati, dicono non è giusto che ci sia questa differenza con i consorziati. Scuola, lavori antisismici al via, il primo lotto alla Don Milani. Il PD chiede tre assessorati, la nuova giunta di Mastromauro, il segretario Baldasserini. Ci aspettano per i risultati ottenuti. Prima seduta a Mosciano, i consiglieri tagliano i gettoni di presenza. Il PD, e siamo a Roseto, un consiglio straordinario sulla vertenza Rolli. Il partito ha avanzato la richiesta una settimana fa, ma non ha avuto ancora risposte da Pavone e Di Marco. A Silvi, Partipilo, probabile vicesindaco, avrà la delega al turismo. Le donne in corsa per un assessorato sono Marinelli, Peracchia e Pacchione. Villa Comunale di Atri, scattano le prime multe ai padroni dei cani che sporcano. Pescara, chiusa l'inchiesta, tangenti H, quattro indagati di Cristofaro nei guai. Sognava un futuro da prof di matematica. Tanti compagni di scuola a rendere omaggio ad Alessia, vittima nello schianto di Alanno. Oggi i funerali nella sua scafa. Montesilvano, proclamati gli eletti, io sindaco di strada, non mi nascondo. Magno promette incontri con i residenti. Già al lavoro per scongiurare l'emergenza, rifiuti e rilanciare anche il turismo. All'Aquila, uffici comunali, la sede sorgerà all'ex autoparco. Esplode la rabbia a Chieti, a Limonti, gli operai bloccano la strada. Nostra inchiesta, l'inchiesta del quotidiano Il Centro. Così i rifiuti finiscono nella lavatrice. Poi le pagine dedicate alla cultura e agli spettacoli. Infine lo sport, ovviamente l'apertura dedicata ai mondiali. Si parla degli azzurri, l'infermeria si svuota. Buffon oramai per fortuna è recuperato. I dubbi sono per la difesa. Daniele De Rossi, nessun limite per questo gruppo. E poi la partita del Brasile. La Sele Sao Stenta ha solo pareggiato con il Messico nella gara di ieri. Per lo sport abruzzese, Serie B. Il Pescara a pranzo con Giampaolo. Fumata bianca vicina. Lanciano, Venturi e l'erede di Seppe. Spunta Gerardi. L'Aquila ha preso Dorazio. Si tratta per Fantini. Chieti, Ronci vicino alla panchina. La società vuole tenere Guidone. Lega Pro. Il Teramo torna su Amadio. Si può chiudere. Per i dilettanti. Amiternina, Sarra ancora presidente. Montorio, De Amicis è ok. Squinzi, che peccato lo stop al Matteotti. E poi una buona notizia per quanto riguarda gli appassionati di automobilismo. In particolare una buona notizia per Schumacher che comunica con gli occhi. L'ex pilota a risveglio dal coma. Pesa 55 kg. Reagisce ai segnali della moglie. Ed è tutto per il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere insieme il messaggero. Ovviamente anche il messaggero apre con gli arresti all'Aquila per lo scandalo della ricostruzione post-terremoto. Chiese e mazzette. Cinque arresti. L'Aquila. Gli appalti del post-terremoto. Il nome più pesante è quello dell'ex vice-commissario Marchetti. Gli altri sono imprenditori e una funzionaria del Ministero dei Beni Culturali. Coinvolti in 17. E poi la Cassazione conferma da Alfonso è prosciolto. Urbanistica respinto il ricorso presentato dalla Procura di Pescara. Giunta regionale varato il quasi monocolore PD con Di Matteo. Oggi al massimo domani, lo ricordiamo, ci sarà l'annuncio della nuova giunta regionale. L'Aquila, mazzette per le chiese, arrestati Marchetti e altri quattro. Dalla Domus al sisma, così è crollato il super esperto post-terremoto. Un grosso affare sin dall'emergenza. Giunta ad Alfonso il quasi monocolore. Confermate le nostre anticipazioni, scrive il messaggero di Pangrazio. Presiederà l'emiciclo. Questa è la scheda. Gli assessori e le loro deleghe. Luciano D'Alfonso, presidente della Regione. Giovanni Lolli, vice governatore, assessore alla ricostruzione dell'Aquila. Attività produttive, sport e turismo. Silvio Paolucci, assessore alla sanità, bilancio e programmazione economica. Marinella Sclocco, assessore a politiche sociali, cultura e istruzione. Dino Pepe, il terramano Dino Pepe, assessore all'agricoltura. Donato Di Matteo, assessore ai trasporti. Mario Mazzocca, assessore all'ambiente, ai parchi, agli enti locali, a ciclo integrato dei rifiuti. Mazzocca e Di Selle. Tutti gli altri che abbiamo letto invece sono del Partito Democratico. L'Aquila, comune, patto di stabilità, superato di 4 milioni. A Pescara, urbanistica D'Alfonso, prosciolto in Cassazione. Maragno esce dal palazzo, sarà un sindaco tra la gente. Ieri c'è stata la proclamazione del sindaco di Monte Silvano. Chieti, settimana mozzartiana, tra novità e tradizioni. Teramo, la cronaca, un chilo di cocaina per rifornire la città bene. Fermato un 43enne di San Nicolò, tremano i professionisti. È in aumento vertiginoso il consumo di polvere bianca su tutto il territorio della provincia. Giulianova, porto, futuro arrischio, gli enti pronti a lasciare ancora multe per il pescato alle vongole. Giulianova, carte bancoposta, clonate, banda di bulgari in azione. Il caso a Teramo riaprono le officine indipendenti. La cerimonia ci sarà questa sera a partire dalle 18.30. E poi Tetramo e Cimiteramo, radio DJ, accende le critiche. Ieri c'è stata la tappa del tour della famosa radio. A Roseto, Rolli, l'avvertenza si nasprisce. Minacciato, un altro sciopero. Per lo sport, la Serie B, il Pescara, Giampaolo. Oramai ci siamo. Il Lanciano invece vuole tenere Gatto, Germano e Falcinelli. L'Aquila pensa a Barreca e Fioretti. Pescara per la pallannuoto, K.O. con Salerno, promozione sfumata. Per il Teramo in Lega Pro, Dimash e De Fabritis replicano a Campitelli. Il brasiliano scrive su Facebook, il terzino fa gli auguri al Teramo. E per il calcio a 5, l'acqua e sapone guarda al futuro con Bellarte in panchina. Ed è tutto anche per il messaggero. Adesso andiamo in pubblicità e poi leggeremo insieme la città. L'impresa di pulizie Testardi Maria e Company SNC opera da 40 anni nel settore delle pulizie e dei servizi di igiene ambientale presso strutture pubbliche e private garantendo da sempre qualità e puntualità nello svolgimento delle proprie attività. Riservatezza, serietà e qualità del servizio sono costantemente garantiti da una esperienza pluriennale fondata sul continuo miglioramento della formazione del proprio personale. sull'utilizzo di prodotti altamente professionali e di attrezzature specifiche per ogni richiesta. L'azienda è sempre pronta ad effettuare prove dimostrative e a fornire preventivi gratuiti per i servizi di cui necessitate. Scegliete dei veri professionisti. Scegliete Testardi Maria e Company SNC. Benvenuti all'Happy Park, la casa della fantasia Happy Park è il posto del divertimento per tutta la famiglia Happy Park è il posto dove i bambini possono giocare e scatenarsi senza paura di farsi male anche se piove o fa freddo Happy Park è il posto delle tue feste di compleanno o delle gite di classe Happy Park è il posto dei mille giochi sicuri Happy Park è anche il trionfo di sapori posto dove la felicità è un gioco Happy Park, San Nicolò a Tordino, via Riccioni 1, angolo via Galilei e da gennaio aperto anche a cena dal venerdì alla domenica Buoninsegna Buoninsegna filtra tra uno e due giocatori cerca di farti luce tra soltanto vediamo che Riva non si è smarcato riceve ancora Buoninsegna al limite tiro, rete, l'Italia in ventaggio Buoninsegna finalmente assegnato andiamo al settimo minuto Riprendiamo la rassegna stampa con il quotidiano La Città dalla prima pagina mazzette per ricostruire le chiese 5 arresti all'Aquila nei guai altri 12 tra uomini di Stato professionisti, imprenditori e anche preti Polizia, coca per la Teramo Bene Luca Vallese, 43 anni, insospettabile ne aveva un chile è stato ovviamente preso dalla polizia che indagava mazzette per ricostruire le chiese aquilane 5 arresti da parte della procura indagati, uomini di Stato professionisti, imprenditori e preti La giunta D'Alfonso pronto a varare il suo esecutivo a Teramo dovrebbe toccare un assessorato un posto in segreteria e il capogruppo di maggioranza vedete le foto degli assessori Dino Pepe sarebbe l'assessore Teramano Claudio Ruffini entrerebbe nella segreteria di D'Alfonso e Sandro Mariani sarebbe il capogruppo del PD usiamo il condizionale perché come dicevamo l'ufficializzazione della nuova giunta del nuovo gruppo che affiancherà D'Alfonso ci sarà tra oggi e domani Ufficializzato il riconteggio ecco il nuovo consiglio regionale entra Monaco, esce Iannurato i voti Teramani cambiano lo scenario su Chieti PD con un seggio in meno in favore di Regione Facile Cronaca un chilo di cocaina per la Teramo Bene la polizia arresta un insospettabile Luca Vallese, 43enne operaio di San Nicolò teneva la droga in casa il processo la tesi della difesa, nessun vincolo o fabbricati abusivi nel parcheggio Marte insicuro nascondeva le dosi d'eroina in bocca tunisino 35enne in manette secondo quanto ricostruito dai carabinieri avrebbe rifornito per diversi mesi i tossicodipendenti vibratiani a Campli il comune gode di ottima salute Gabriele Giovannini non ci sta in replica alle accuse sul buco in bilancio e poi Paolo Tancredi ha partecipato alla conferenza degli affari europei la controreplica e torniamo al caso di Campli non riusciamo a pagare una parcella da 1000 euro pronta risposta dell'assessore Agostinelli all'ex sindaco Farnese Melarangelo lascia la segreteria PD verso il congresso comunale i democratici fanno il punto sul dopo elezioni parola d'ordine e rinnovamento il borsino dei politici prima della giunta va sciolto il nodo canziano il consigliere per ora è fuori dal consiglio complessi incastri tra le civiche sulla questione delle deleghe l'evento la pioggia non ferma i fans di DJ Albertino ieri in piazza Martiri il contest di radio DJ che fa il tour nelle piazze di Mezza Italia in Abruzzo è stata scelta solo la piazza di Terra il debito è solo una scusa per coprirsi l'ex assessore Papa replica alle accuse della nuova maggioranza Luzzi e siamo a Santomero Sant'Egidio Rando Angelini presenta ufficialmente la squadra Carlo Fabrizi sarà vice sindaco Sirio Talvacchia assessore invece ai trasporti guerra aperta tra lega ambiente forcellese a Giulianova dopo i dati della guida blu l'associazione chiede di non riconfermarlo sempre Giulianova Enteporto approvato il bilancio targato Vasanella resta in piedi la realizzazione della nuova imboccatura dello scalo lo scontro sulla Rolli diventa politico il Partito Democratico critica la lentezza della maggioranza di Pavone la donazione tre nuovi computer per la biblioteca di Roseto sono stati comprati con i fondi ricavati dalla vendita del libro i ricordi di Eidos una cimice nascosta negli uffici comunali di Silvi la microspia è stata scoperta durante i lavori di manutenzione effettuati nella stanza di un dirigente la cerimonia Roseto ricorda Marcello Prosperi domenica scorsa la commemorazione del carabiniere per la cultura un libro nato da 30 anni di lavoro la storia della scuola teramana nel volume di Giovanni di Giannatale e ancora le bellezze mondiali sfilano in passerella si è svolta a Tortoreto Lido la selezione provinciale del concorso nazionale Miss Grand Prix Enologia agli imprenditori di Giulianova alla scoperta del vino Piceno una serata insieme con i professionisti e ragazzi diversamente abili dell'Agave sabato a Giulianova la quarta edizione dell'iniziativa di solidarietà dei gruppi e delle associazioni dei giovani imprenditori e professionisti teramani per lo sport Campli riparte da coach Castorina dopo l'ottima stagione in DNC arriva la conferma per l'allenatore la società sceglie Roberto Di Felice per il ruolo di team manager serie D 13 nuovi soci per il San Nicolò Di Giovanni rafforza la base del club calcio giovanile torneo di Fabio impresa del Colonia Spiaggia finale mozzafiato teramo battuto in rimonta ai supplementari Atletica Bomano Giovanni d'oro con Silvia Botondi Marco Macchia e Federico Gasbarri ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina adesso andiamo in pubblicità poi incontreremo il nostro primo ospite le linee bioapta frutto dell'esperienza e dell'attenta ricerca dei laboratori riuniti delle farmacie nascono per rispondere con l'ampiezza della gamma e l'efficacia dei componenti alle soluzioni più appropriate per l'igiene la bellezza e la protezione del viso e del corpo garantendo la sicurezza di chi l'impiega e la professionalità di chi li consiglia bioapta l'amica della tua pelle ti è presa l'irrefrenabile voglia di rinnovare la tua vecchia cucina? niente paura è tempo di Kitchen's Days ecco l'ultima interdibile iniziativa del gruppo di Santemobili in occasione della realizzazione della nuova area cucina ben 20 composizioni esposte saranno vendute con un abbattimento del 50% rispetto al normale prezzo di listino hai capito bene 50% allora che aspetti? corri alla di Santemobili di San Nicolò di Teramo e corona il tuo sogno solo fino al 22 giugno 2014 è tempo di Kitchen's Days fornisce allo stesso tempo garanzia tutela trasparenza rigore fiducia e qualità alla comunicazione quanti caselli è? c'è un'autostrada corecom eccoci di nuovo insieme saluto e ringrazio il primo ospite di questa mattina che è Vincenzo Enzo Misuraca buongiorno bentornato nei nostri studi Enzo Misuraca con lui oggi presentiamo un libro un libro particolare scritto da Enzo Misuraca insieme a Davide Rosci il libro è questo qui ci vuoi dire intanto il titolo Enzo? Una tranquilla cittadina di paura eh il titolo è inquietante è una tranquilla cittadina di paura la cittadina è? Teramo Teramo ovviamente io sono Teramano legato a Teramo e in questo libro ho scritto da due Teramani Doc soprattutto Davide Rosci Doc hanno collaborato anche Enzo Lignazio con il quadro che fa la copertina Mimmo Pallonchini come fotografo e tante altre persone tutte Teramane 100% Dunque un libro dedicato a Teramo scritto realizzato insomma qui c'è c'è molto insomma c'è tutto di Teramo eh ricordiamo che Davide Rosci anche perché così entriamo nel merito del libro entriamo nei contenuti Davide Rosci eh attualmente agli arresti domiciliari è stato anche in carcere insomma la storia di Davide è inutile stare qui a ricordarla e in questo libro c'è dentro anche la sua storia in qualche modo vero? Allora la storia di Davide Rosci probabilmente sarà scritta a parte questo c'è un qualcosa che riguarda Davide Rosci e in particolar modo di ultrare il Teramo Calcio è lo studio comunale eh questo è un romanzo un personaggio di fantasia ma si basa molto su è tutto ambientato a Teramo e sulla storia del comunale e di quello anche vuole mettere in risalto ciò che hanno fatto tanti cittadini per poter salvare questo stadio chi perché è un monumento del Teramo Calcio chi perché non vuole evitare le spiegazioni di vizi chi perché è legata anche alla storia del Teramo Regimi anche se da pochissimo tempo insomma c'è un po' di tutto e ci sta anche molto sull'ultra che è un mondo che io conoscevo che Davide mi ha fatto conoscere presentando alcuni amici e insomma mi ha chiesto un po' di idee che probabilmente a volte un mondo particolare che magari voi adesso insomma in su misura che non c'è più nella società del del rugby però è storicamente legato insomma a questo a questo sport diciamo che non c'è molta affinità tra i tifosi del rugby e i tifosi del calcio insomma gli ultra del calcio hanno un vissuto una storia diversa tradizionalmente e mi dicevi che grazie a Davide e Rosci hai imparato anche ad amarli insomma conoscerli meglio ma come tutte le cose quando si conoscono meglio sicuramente poi si capiscono tante cose che diversamente non si approfondiscono a volte sono loro comuni oppure sono idee come si preconcetti come si fa in realtà poi insomma le cose conoscendo queste persone un po' meglio già si inizia a capire un po' anche le loro mentalità i loro discorsi quindi anche apprezzarli ma comunque collegando con il rugby c'è sempre perché Davide Rosci è un ex giocatore di rugby lo scopra adesso per la verità io lo ricordo come storico tifoso insomma un ex bravo giocatore di rugby nel rugby ci stanno hanno giocato e giocano diversi ultraletteramo calcio e di qualità Davide in particolar modo sono di un'estrema correttezza e io là mi è accesa la lampadina e dico ma come è possibile si parla dei violenti come questo e quell'altro e in realtà li vedo in mezzo al campo seri corretti brai precisi e quindi allora iniziamo a indagare poi logicamente ho avuto questo Davide questo problema con la giustizia e mi sembra come avete fatto a scrivere insieme un libro mentre soprattutto mentre Davide Rosci era in carcere tra l'altro non è stato solo nel carcere Terramano di Castroni è stato anche a Viterbo come avete fatto a sentirvi ad incontrarvi è stata molto 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 dura prima cosa per riuscire ad entrare nelle carceri è una cosa semi impossibile in particolar modo Viterbo e Terra con i supercarceri e sono permessi permessi esitazioni telefonate non tutti sono disponibili alcuni sono anche non precisissimi da indicazioni diciamo così diciamo e comunque siccome Davide ha sbagliato lo sta pagando uno per la lotta armata lo so anch'io probabilmente il sistema non si cambia e si distrugge è una frase che a me non dispiace quindi per carità Davide è consapevole di ciò che ha fatto però secondo me questo accadimento verso le comune di Davide sembra leggermente esagerato ha voluto in qualche modo alleviare tra virgolette la sua sofferenza in questi luoghi di di pena diciamo che ho provato a entrare più volte sia a Viterbo che a Terbo a Terbo non ci sono anche riuscito ma è stato scritto questo libro tramite lettere e Pizzini e Pizzini i famosi Pizzini è stata una cosa un'impresa non sono ovviamente noi parlando di Pizzini ovviamente pensiamo ai famosi Pizzini della mafia assolutamente no il Pizzini è un insomma sono fogliettini di casa in maniera autorizzata ovviamente nel caso specifico del libro di Davide ed Enzo insomma e dunque avete comunicato proprio come si faceva l'antica attraverso le lettere e non è stato semplice perché diciamo che siamo partiti inizialmente da due visioni completamente opposte del mondo ultra del mondo anche della visione proprio della di come salvaguardare i comunali perché salvaguardarlo e quindi scusa che ti faccio domande un po' più personali l'amicizia insomma la conoscenza tra Enzo misura che Davide Rosci risale prima insomma dei fatti che poi hanno portato Rosci al carcere certo al mondo del rugby ero un mio giocatore i miei giocatori sono i miei figli per me quindi per me lui è un ragazzo giovane un giocatore bravo in campo ma bravo sotto fuori dal campo e ripeto con tutti i primi concetti che avevo quando mi si avvicinava gli ultra che avevo a giocare al rugby ero sempre leggermente rigidito in realtà poi ho visto questa persona che effettivamente si sono comportati in maniera credo che alla base comunque di una grande passione c'è la base degli ultra anche a volte di alcuni atteggiamenti ovviamente non condivisibili e condannabili alla base c'è la grandissima passione per lo sport per il calcio nel caso degli ultra del calcio per cui se uno ama lo sport perché non dovrebbe giocare rugby o non dovrebbe praticarlo al di là poi di quello che succede la domenica nel caso dei ragazzi terramani insomma sono ragazzi per la maggior parte tutti tranquilli voglio dire quando parliamo di ultra violenti parliamo di gruppi organizzati a livelli decisamente più alti ma mele marci sono per tutto mi sa che sono all'interno della politica all'interno delle banche ovunque quindi diciamo che ed è normalissimo che in una grossa associazione quella può essere quella dell'ultra o della politica ci sia uno o più mele marci che creano che interpretano male il messaggio come interpretiamo noi a volte male e che insomma creano disturbo e fanno apparire in maniera non corretta quello che in realtà è l'intento dell'ultra quello della fede di avere un obiettivo comune effettivamente sono tante cose ho scoperto tante cose positive che mi sono dovuto ricredire e meravigliare molto soprattutto allora veniamo adesso dicevamo vi siete comunicati attraverso questi pizzini il libro l'hai scritto l'hai scritto tu praticamente no no e come? Davide Rosci ha fatto un comunicato in cui ho detto una grossa bugia mi dispiace per Davide ha detto che ha scritto in particolar modo l'ho scritto io non è vero perché l'idea iniziale è stata mia ma in realtà lui l'ha stravolto non uno e più volte questo scambio elettrico è stato uno o due scambio elettrico è stato una scambio di corrispondenza continua perché lui era le sue idee io era le mie e per metterci d'accordo è stata dura perché giustamente in certi capitoli apparivano cose che a lui non piacevano in certe altre cose che non piacevano avete trovato è stata dura è stata molto dura perché insomma noi siamo fondamentalmente venivano due mondi diversi avvicinarsi non è stato semplice però abbiamo fatto siccome ci rispettiamo molto abbiamo fatto ambe e due con grosso piacere e ripeto il libro è stato scritto a quattro mani e non si discute e l'idea ripeto l'idea di partenza questa è mia di scrivere il libro insieme e quando quando è partita l'idea quando è che avete allora il libro è almeno un anno fa un anno fa abbondante sì un anno abbondante perché ripeto e se lo spettatore vuole a modo di leggere la pressura del libro è qualcosa totalmente diverso anche perché io ho letto l'inizio adesso mentre parlavamo parte con un onorevole intanto con una storia che è ovviamente di pura fantasia però che è legata alla tutela alla salvaguardia di questo stadio comunale di Teramo questo onorevole che si sveglia legato mani e piede ad una grossa sedia di legno fissata al suolo e paragonate la sedia di legno fissata al suolo ad una sedia elettrica fa paura assai sto libro è un thriller molto horror diciamo che a differenza di quello che può pensare le persone la parte horror crudele dura brutta e cattiva è quella che ho messo io quindi qui invece da me ho messo un po' più la storia diciamo che lui è molto più soft di me molto più soft quindi la gente potrebbe interpretare questo ha scritto Davide questo ha scritto Venzo no no allora chiarisco siccome è un thriller ma anche perché tu hai la passione per questo genere già gli thriller sì mi piace un po' io sono curiosone mi piace tutto faccio male tutto non male provo a fare tutto quello che ti incuriosisce e ti interessa cerchi di farlo in sintesi la storia abbiamo detto qual è perché è nato questo libro ma che cosa racconta chi sono i personaggi allora sì sicuramente chi è questo onorevole se fa una brutta fine non lo so sapere che fine fa sì e leggi il libro bisogna leggere comprare io ci ho provato a tirare fuori si deve comprare perché Davide ha voluto che questa piccola percentuale che aspetta agli autori vada poi da voluta in Benvicenza associazioni che lui sa che vuole e conosce quindi ecco un altro motivo per te lo comprare dunque è un libro che stava scritto per beneficenza dunque tutto quello che il vostro compenso dalla vendita andrà in beneficenza il mio è il piacere iscrivere e divertirmi Davide non la voto assolutamente nulla la voto specifica io con i soldi ho un cattivo rapporto non c'è nulla a che fare e se entra qualcosa a me non interessa certamente lui si rifà delle spese vive che ha sostenuto ci sono le spese quelle per stampare il libro che ha sostenuto fatto il resto sono cose che non mi voglio mettere in tasca nulla lui giustamente le spese vive e basta nient'altro i soldi a me non mi interessano in realtà la storia si parla del comunale parla di efferra di delitti parla di storie umane parla dell'ultra ma non è proprio un colletto direttissimo con con Teramo nel senso che i personaggi sono molto inventati certi nomi possono avere delle assonanze certe storie possono far pensare a in realtà i personaggi sono pure fantastici però la storia libro di fantasia personaggi di fantasia però i riferimenti e la storia che c'è dietro la vicenda del teatro comunale sono reali i passaggi di questa vicenda li avete riportati fedelmente non l'avete stravolto assolutamente protoccandoli molto lontana è impossibile poi non ricondurre determinati passaggi a determinati nomi e cognomi perché le sue situazioni sono reali sono state veramente vissute però logicamente dobbiamo muoverci muovere sulle uova camminiamo sulle uova quindi dobbiamo stare sempre molto attenti tanto poi alla fine ve lo dico subito muoiono tutti in questo libro per cui alla fine forse forse muoiono tutti non è detto no ovviamente scherzo forse il cattivo no ammettono di non averlo letto lo farò assolutamente dunque tutto quello che io dico su questo libro è inventato al momento perché non conosco l'ascolto come i nostri telespettatori per la prima volta oggi almeno sapevo insomma di questo libro c'è stata la presentazione ufficiale venerdì 13 giugno ricordiamo che la casa editrice e voi per la quale hai anche scritto altri libri con la quale hai pubblicato altri libri sì sì diciamo che la cosa fondante di questo libro era una cosa divertirsi io e Davide penso che si è divertiti come Matti ripeto avere due teste che erano due mondi separati due mondi opposti e cercare di coniugarli insieme è una cosa molto simpatica e divertente Davide mi ha fatto comunicare in cui mi ringrazio io ringrazio lui sicuramente per tutto quello che ha fatto e poi mi ha fatto passare delle giornate in calcio in particolare quello di Viterbo molto molto duro perché insomma è normale che lui è un personaggio molto forte nei momenti di scordamento ci sono sempre in carcere credo che ci siano spesso dei momenti di scordamento lui è una persona eccezionale fortissima logicamente vuoi non vuoi avere qualche piccolo svago lui è passato il giornale mette anche nottate a scrivere insomma lui si è impegnato tantissimo come me e più di me e questo ha aiutato a portare avanti in particolare un po' di più di Viterbo perché poi ripeto Davide fa la sua lotta sa cosa va incontro non è il terapia che piace lamentarsi forse un cesto di di accalimento probabilmente io vedo tanti politici che hanno combinato danni estremi che stanno in giro probabilmente c'è quindi mi sembra giusto e corretto fare sentire la presenza degli amici a fianco in questa maniera e fece una soletterina abbiamo fatto insieme questo racconto ripeto che è l'unione di due testi inizialmente totalmente preparate e ora si sono molto avvicinate che hanno poi trovato un punto sicuramente un punto di incontro i personaggi di questo libro sono c'è un personaggio il personaggio principale o i personaggi principali la storia è collegata ad una una vicenda terramani esatto il personaggio principale questo ispettore di polizia e poi intorno a lui ci sono i politici ci sono altri prefetti ci stanno altri poliziotti poi c'è di tutto di tutto e si fa riferimento a c'è molte vicende terramare tristi vissute perché essendo un giallo un horror a terra moltini si sono stati famosi sui giornali apposta per vicende tristi allora ci sono dei collegamenti dei flash che tra mano leggendo sicuramente riuscirà a capire colpire a centrare insomma e quindi questo personaggio ci sono anche dei passaggi adesso sfogliandolo velocemente riferimenti al terremoto dell'Aquila insomma c'è un po' della storia degli ultimi anni locale non solo terramana insomma anche qualche riferimento a vicende episodi ma il terramo sanbedettese che non so quando anni fa che non fu giocata causa nebbia ci sono riferimenti si parla di terramale di anche secondo me diversi di episodi terramani ah vedi non avevo notato una cosa che le date non sono questa è per me pare importante cioè sono ogni capitolo è un giorno però parliamo di 2020 2023 tutto 2017 allora partiamo dal aspetta che adesso è un particolare che mi era sfuggito no andiamo avanti poi torno indietro poi va avanti 2023 2017 2023 comunque 2013 2014 anche i giorni nostri anche i giorni nostri si spazia molto il futuro come lo avete immaginato visto che c'è il 2023 la cosa finale è che il comunale ancora c'è ancora uguale si parte con l'abbattimento del comunale parte con la scena dell'abbattimento del comunale e in realtà è ancora sta là insomma malgrado tutto e tutti il comunale è ancora lì è ancora lì e questo è nel 2023 cosa avete previsto così tanto per giocare sul futuro allora che il comunale è ancora lì che l'Italia vista l'evoluzione è facile insomma che sia ancora lì nel 2021 quando mi c'è a scrivere non è così semplice da prevedere quindi siamo stati i premonitori e poi la situazione politica italiana c'è un piccolo accenno della situazione italiana soprattutto nel primo capitolo dove esiste sempre questa casta di politici che si chiamano consoli che hanno degli anelli che la gente li bacia tipo dei papi tipo del insomma quindi diciamo che se aprire non cambierà non cambierà mai perché purtroppo in partito l'Italiano penso che ancora abbia la pancia troppo piena per poter fare qualcosa di serio siamo in un momento di grandissima crisi la pancia forse l'abbiamo svuotata però se c'è chi ancora c'è la piena c'è un altro libro ancora che uscirà penso a luglio agosto dove si chiarisce c'è un messaggio un grande saluto è sempre un piacere rivederti lo dice Carlo De Dominicis grazie Carlo un altro ce n'è in cantiere si uscirà questa cosa l'ho fatto con mia figlia un po' più sempre costa come il romanzo perché non sono scrittore io mi diverto soltanto però molto filosofo politicheggiante parole grosse per me perché sono ignorante io ritengo che l'italiano fin quando fai la barricade con i mobili degli altri va bene con i mobili proprio non li fai quindi non esiste proprio il discorso di leggere ancora parliamo male ce l'abbiamo e poi andiamo sempre a portare gli stessi ma quello è un amico un parente che ha fatto il piacere quindi diciamo che le cose non cambieranno quindi in questo libro ho un accenno proprio un piccolo ripeto sono miglia non siamo andati a fondo perché abbiamo preferito stare un po' molto da lontano a vedere cose anche perché è un libro di fantasia non si deve andare a fondo altrimenti sarebbe diventato sarebbe stato un libro di attualità insomma esatto e poi anche di opportunità insomma dove si dove si trova? questo in tutti i libri di Terramale poi la Cassi dicevo è penso che abbiamo anche un sito online per poterlo ordinare e attualmente gli amici di Davide stanno anche vendendo queste copie in vari circoli associazioni loro collegati il libro costa 10 euro ripeto non è poi per beneficenza esatto parte del ricavato andrà in beneficenza per cui parte che andrà all'editorio la difesa che va agli autori Davide ha deciso di tolta le spese che ha avuto lui giustamente questa strana fesseria ma siamo un piccolo gesto che comunque dico subito è partito molto bene la vendita intanto avete scelto un titolo accattivante sinceramente anche io quando l'ho sentito la prima volta mi ha colpito si mi ha colpito una tranquilla cittadina di paura è un titolo secondo me ad effetti insomma l'avete scelto l'avete scelto bene il terramano è così il terramano ci sarà molto sembra molto molto tranquilla ma effettivamente guarda sotto scando un po' sotto effettivamente fa paura allora come scrive Davide Rosci nella lettera che avete immagino letto alla presentazione del libro ora sarà la critica dei terramani a dirci se abbiamo appassionato o annoiato il lettore questo è un po' come le elezioni poi uno può parlare può dire poi la gente va a votare e legge o boccia chi si presenta in questo caso verrete promossi o bocciati dai lettori voi secondo me siete stati bravi intanto a pensare questa cosa è stato bravo Davide e la finalità è ovviamente da premiare poi è la gente però che va a comprare Misuraca numero uno e mica noi grazie papà mamma la cosa che mi fa piacere è che gli amici comunque si svegliano presto la mattina e seguono Teleponte bravi agli amici di Enzo Misurac perché insomma l'orario oddio anche se c'è da andare a lavorare probabilmente a quest'ora più o meno sono tutti questi periodi insomma chi ce l'ha è meglio che ci vada è anche presto se possibile dunque non perdetelo questo libro perché sicuramente è interessante ha uno scopo benefico è stato scritto da due teravani molto conosciuti legati al mondo dello sport tutti e due per cui forse vale decisamente la pena e vi ringraziamo il vicepresidente e se chiedete sapere il vostro pensiero sul libro dove lo possono anche avete una pagina facebook facebook c'è una pagina di questo libro dei piccoli commenti dei brivi commenti ci fa piacere sono già arrivati i primi tutti di parte quindi tutti positivi ma sono di parte quindi ammetto magari è piaciuto davvero e non sono di parte non dare più scontato vedremo vedremo speriamo lo leggerò vi farò sapere anche io grazie a te grazie ovviamente a davide rosci spero ci stia guardando da casa e lo salutiamo in bocca al lupo a tutti e due in bocca al lupo per questo libro e poi magari saremo qui tra qualche tempo a parlare del successo speriamo speriamo bene ok grazie mille a Enzo Misuraca adesso andiamo in pubblicità il comitato festa di viola a Teramo vi aspetta per la festa di Sant'Antonio da Padova sabato 21 giugno ore 21 orchestra spettacolo Orizzonti Blu domenica 22 giugno ore 21 concerto dei Tequila e Montepulciano Band Cicirinella Live Tour vi aspettiamo numerosi a viola di Teramo il 21 e il 22 giugno non mancate ti è presa l'irrefrenabile voglia di rinnovare la tua vecchia cucina? niente paura è tempo di Kitchen's Days ecco l'ultima imperdibile iniziativa del gruppo di Sant'Emobili in occasione della realizzazione della nuova area cucina ben 20 composizioni esposte saranno vendute con un abbattimento del 50% rispetto al normale prezzo di listino hai capito bene 50% allora che aspetti? corri alla di Sant'Emobili di San Nicolò di Teramo e corona il tuo sogno solo fino al 22 giugno 2014 è tempo di Kitchen's Days mondo chef catering accende di luce i vostri eventi disponibilità, buon gusto, cortesia e qualità sono alcuni dei nostri punti di forza oltre ad una garanzia di economicità in rapporto alle esigenze offriamo soluzioni di accoglienza completo e personalizzato ricchi menu varietà di pietanze ricerche delle location con grande attenzione alla cura del servizio che rendono unico ogni evento mondo chef catering fonda da anni la propria attività su basi di semplicità e accuratezza mondo chef catering strada provinciale per menzano frazione santi di preturo l'aquila ritroviamo con grande piacere ritrovo con grande piacere Ottaviano Taddechi il direttore artistico di teatri paralleli buongiorno buongiorno bentornato nei nostri studi teatro paralleli il festival di teatro delle interferenze che torna delle differenze che torna quest'anno dal 30 giugno al 4 luglio è una manifestazione bella molto bella nonostante le difficoltà la state portando la state portando avanti chi la organizza dove si tiene ricordiamo tutti i dettagli anche se è un festival famoso oramai beh sì insomma l'ottava edizione tutto è iniziato nel 2006 l'iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale La Formica insieme alla Proloco di Sant'Omero al Comune di Sant'Omero ovviamente Terra Teatro invece si occupa della parte organizzativa e della direzione artistica sono tanti anni e in questi anni devo dire non solo l'iniziativa insomma si è affermata a livello territoriale ma è una delle iniziative più importanti e di riferimento possiamo dirlo anche a livello nazionale perché ahimè e ai noi insomma questo tipo di proposte sono sempre più insomma sempre minore rispetto al passato e quindi noi qui in Abruzzo la difendiamo a denti stretti si lega ad una serie di esperienze e di pratiche che noi appunto mettiamo sul campo da tantissimi anni con in particolare i ragazzi diversamente abili del centro di urno della Val Vibrata che appunto la cooperativa La Formica gestisce il programma di quest'anno diciamo si parte lunedì 30 giugno alle 21 e 15 con chi? con il teatro delle formiche appunto quindi con i padroni di casa aprono i padroni di casa esatto che appunto propongono spettacolo insieme a Terra Teatro quindi con gli attori professionisti di Terra Teatro in scena insieme a dieci ragazzi anche loro attori devo dire insomma molti di loro hanno un'esperienza oramai pluriennale e lo spettacolo è tratto dall'Otello di Shakespeare si intitola Telmi Otello ed è insomma più che il racconto della celeberrima opera di Shakespeare è una sorta di metafora dell'attore sulla scena quindi dell'attore persona che si confronta appunto anche con i sentimenti umani che Shakespeare invece mette appunto in risalto all'interno dell'opera Otello e questo è molto interessante ed è molto importante come proposta perché appunto parte da lontano perché parte da un progetto poi magari se vuoi ne parliamo da un progetto di formazione all'interno del centro di urno è un progetto realizzato insieme al Ministero delle Pari Opportunità e quindi insomma una cosa piuttosto importante poi continuiamo il primo luglio il primo luglio ricordiamo che le serate sono consecutive gli spettacoli sempre alle 21 e 15 sì intorno alle 21 e 15 insomma aspettiamo il buio come si suol dire invece appunto tanto vediamo ringraziamo la regia Giancarlo Rapagna perché ci sta proponendo a parte le immagini della locandina ci sta proponendo anche dei momenti degli spettacoli degli spettacoli di quest'anno e invece degli spettacoli anche degli anni degli anni passati dicevamo il primo luglio il primo luglio è uno spettacolo molto importante perché è vincitore di un premio il premio Eolo un premio famoso che è legato al teatro ragazzi e infatti lo spettacolo del teatro pirata di Iesi Voglio la Luna è prima di tutto dedicato ai bambini quindi in una fascia di pubblico più piccola che insomma in realtà rappresenta uno degli spaccati più interessanti di teatri paralleli perché in piazza vengono le famiglie e quindi anche moltissimi bambini e Voglio la Luna è appunto una riflessione poetica sui desideri quindi davvero un invito di nuovo al pubblico a partecipare e invece il due poi c'è Biancaneve Biancaneve sì Biancaneve sicuramente rivisitata il gruppo è il magnifico Teatrino Errante di Bologna anche qui esperienze con i centri di urni e quindi saranno in scena moltissimi attori ma è un Biancaneve appunto attualizzata che è piena di simboli e quindi tutti i riferimenti che noi conosciamo di questa famosa fiaba poi sono in qualche maniera reinterpretati proprio perché collegati alla situazione e alle esperienze attuali di ognuno il 3 luglio sempre alle 21.15 c'è il laboratorio minimo teatro di Ascoli Piceno il titolo è Ora mi vedi sì ed è una serata di sensibilizzazione sull'autismo abbiamo voluto inserire questa novità quest'anno cioè una serata dedicata ad un aspetto della disabilità probabilmente uno degli aspetti più attuali in questo momento perché appunto si parla dell'autismo che è qualcosa ancora di misterioso in realtà ci sono già delle ipotesi vorremmo in qualche maniera segnalare appunto non solo alcuni aspetti ma anche alcune alcune esperienze legate all'autismo infatti saranno ospiti oltre alla compagnia minimo teatro di Ascoli saranno ospiti anche i genitori dell'associazione Magnificamente una dottoressa insomma ci sarà un momento di riflessione aperto non solo teatro quindi non solo teatro esattamente e poi a conclusione della serata ci sarà la presentazione dello spettacolo finale del laboratorio dei bambini di Sant'Omero insomma questo è anche un altro aspetto che portiamo avanti da tantissimi anni proprio perché siamo convinti che i messaggi che vogliamo proporre passino anche attraverso le nuove generazioni e questo è il modo anche per fare cultura e per cambiare cultura ed è uno degli obiettivi teatri paralleli il laboratorio si svolge dal 29 quindi parte il giorno prima dell'inizio del festival fino al 3 luglio ed è condotto da Rita Scognamiglio del teatro Lanciavicchio di Avezzano e appunto sarà un momento conclusivo molto importante e poi chiudiamo il quattro chiudiamo il quattro forse insomma in ogni cartellone c'è la serata di punta non so se questa sarà la serata di punta non mi piace molto però sicuramente Davide Anzalone è un grande personaggio lo conosciamo tutti io non sono normale intanto il titolo dello spettacolo che è bellissimo provocatorio come sempre ricordiamo che il primo spettacolo si chiamava Targato H ed era anche il titolo di un bellissimo libro che lui aveva scritto insieme ad Alessandro Castriota che è anche il regista di questo spettacolo io non sono normale se insomma è sicuramente intanto è una commedia brillante quindi rideremo piuttosto che piangere perché spesso si ha questo atteggiamento ancora oggi pietistico rispetto alla disabilità ed è assolutamente sbagliato e rideremo appunto anche degli aspetti più paradossali della disabilità si parla infatti di una persona spastica che insomma improvvisamente viene miracolato ma viene miracolato per metà e quindi e cioè lui è uno spastico in carrozzina che non parla però all'improvviso invece parla dopo il miracolo presunto e solo che rimane in carrozzina ma si scatena in tutta una serie di azioni ecco sesso, droga e rock and roll come lui dice fino a tirar fuori invece quelle che sono un po' i paradossi anche legati alla disabilità e all'idea che si ha della disabilità è un bel programma anche quest'anno rispetto agli anni passati più o meno avete mantenuto la stessa cinque serate come sempre c'è il laboratorio dei bambini insomma siamo riusciti a difendere è stato molto difficile devo dire però ci tenevamo molto anche la Proloco ci tiene molto perché da tanti anni lavora anche insieme a Terra Teatro tra l'altro lavora con con le scuole e quindi insomma questa idea di continuità era assolutamente necessaria però la cosa forse importante è che quest'anno c'è più attenzione anche al teatro e disabilità come aspetto professionale quindi sono presenti appunto compagnie professionali attori famosi insomma anche a livello nazionale che sono andati alla ribalta più volte e quindi questo credo in qualche maniera da un lato alzi molto la qualità dall'altro c'è forse come è successo invece negli anni passati meno attenzione a quelle che sono le realtà più legate ai centri di urni quindi alle esperienze di laboratorio all'interno dei vari centri di urni che insomma in tutta Italia operano ogni giorno però insomma ecco credo che sia interessante anche dare questo spaccato del teatro sociale non abbiamo ricordato ed è importantissimo che gli spettacoli sono ad ingresso gratuito assolutamente c'è questa caratteristica che oramai ci lega un po' al territorio ed è uno degli aspetti più interessanti secondo me intanto il festival viene presentato in una piazza quindi insomma all'interno di un paese all'interno di un territorio avete guardato le previsioni del teatro questo ancora no ancora presto il peggio lo stiamo avendo in questa settimana e speriamo che finisca qui peggio di così non credo che possa andare visto che ci abbiamo proprio verso l'estate piena entriamo nell'estate tra qualche giorno per cui voglio dire peggio di così non può andare devo dire che siamo stati molto fortunati gli anni passati quindi insomma confidiamo questa fortuna ve la meritate pure io dico sempre perché dovrebbe piovere per chiudere ricordiamo diamo tutte le indicazioni per chi volesse partecipare per chi volesse venire insomma a vedere questi spettacoli e ricordiamo anche quali sono le vostre finalità nel corso di tutto l'anno perché questa è solo una delle tante iniziative sì allora intanto noi invitiamo tutti dal 30 giugno che è lunedì che è un lunedì insomma è dal 30 giugno al 4 luglio tutte le sere dalle ore 21 e 15 presso Piazza De Curtis a Santomero l'ingresso è gratuito lo abbiamo ricordato siamo lì ad aspettare il nostro pubblico che è sempre molto numeroso quindi ci contiamo anche quest'anno le finalità sono appunto quelle di far passare un messaggio che è un messaggio di inclusione sociale attraverso il teatro quindi la disabilità non deve essere reclusa all'interno soltanto dei centri insomma anche se noi ne gestiamo uno e cerchiamo appunto sempre di finalizzare le nostre attività per quella che è l'inclusione sociale e quindi l'apertura verso l'esterno addirittura il protagonismo all'interno della società il teatro è uno strumento lo diciamo sempre è uno strumento e la cooperativa La Formica ha raccolto questa sfida Terra Teatro lavora da tanti anni con il teatro appunto come strumento come mezzo di comunicazione di socializzazione di espressione della propria creatività delle proprie emozioni ma anche soprattutto perché pensa che affermare la propria personalità rispettando gli altri rispettando anche il racconto personale degli altri sia un elemento fondamentale e anche per creare probabilmente si spera almeno questo poi è l'aspetto più importante una società che sia in qualche maniera più civile diciamo così grazie io ringrazio come sempre Ottaviano Taddei e non perdete Teatri Paralleli dal 30 giugno al 4 luglio a Sant'Omero perché le proposte come sempre sono interessanti grazie buona giornata a tutti adesso noi andiamo in pubblicità stiamo parlando e raccontando i fatti nostri con Mario che lo ritroviamo molto barocco questa mattina come stai? molto bene nonostante il tempo sì no sono molto meteopatico però è così è screma il tempo screma diciamo crea le condizioni per chi cioè tu sei a favore del bel tempo cioè stai meglio quando c'è il bel tempo no no sono a favore del tempo pratico la barca del tempo e sono a favore del tempo però se questo tempo ti condiziona hai appena detto che sei meteopatico dunque condizionato dalle è ovvio che nessuno sta bene con la pioggia a giugno insomma io a me mi rilassa la pioggia mi rilassa pure troppo la mattina ecco diciamo che non è più un discorso di quantità ma di qualità le persone che si riuniscono sono spinte da un vero intento in questo periodo con la pioggia uno per esempio noi stiamo affrontando la settimana eusofica nella settimana di pioggia di giugno è bellissima esperienza voi la prevedete nella vostra filosofia la sfiga no è tutto mi sembra sfiga questa però no no per me mi sembra una cosa giusta perché le cose che nascono infatti le eusofie è nata a terra dovremmo essere tutti orgogliose di questo che ci permette di praticamente di capire quanti realmente sono all'interno di un discorso che in questo momento è innovativo ma probabilmente fra cent'anni sarà diffuso in tutto il mondo noi non ci saremo a vedere questa diffusione noi sì io sì tu ci sarai fra cento duecento anni io ci sarò ancora io te lo auguro ovviamente non lo so augurartelo francamente perché torneranno i tempi se noi ritorniamo a mangiare bene ad avere dei ritmi ma duecento anni fino a cento possiamo arrivare a duecento anni credo che sia così così a volte mi dicono sai per caso la persona più vecchia del mondo quanti anni ho sentito centodiciasse centodiciotto ma proprio casi eccezionali centodiciotto centodiciotto forse in Cina ma quelle sì nella nostra cultura c'è così se noi abbiamo delle se riuscissimo ad avere delle abitudini sane forse molto molto antiche ma io spero da qua a 40 anni che ce la posso fare ad avere delle abitudini sane cioè nella serie quando oramai non potrai non avrai più la forza per praticare le abitudini cattive ovviamente dovrai praticare io ho questo corpo da quando ho 13 anni questo corpo ok che significa sono morto già tre volte tre quattro volte ma mi si riazzera ogni volta la lancetta della nascita non ti hanno voluto di là no non mi ci voglio perché ancora devo portare qualcosa di per fortuna almeno sei di qua con noi in nostra compagnia meravigliosa meravigliosa infatti non so se grazie che mi hanno detto le persone che hanno visto a Teleponte l'intervista che abbiamo fatto per presentare come è andata poi questa mostra questa inaugurazione lunedì sera bene bene perché poi era molto si leggeva a sperimentare nel senso con le persone del comitato di quartiere infatti per fortuna con la pioggia abbiamo a disposizione grazie alla professoressa Bonolis grazie a tutto il quartiere Santa Maria Abitetto questa l'angolo sud del palazzo Braga che c'ha il giardino dove c'era l'ex asilo e probabilmente oggi facciamo i laboratori lì e anche la pioggia non vi ha dato fastidio più di tanto perché avevate comunque la disponibilità di un locale chiuso avete la disponibilità di un locale chiuso sì non ci fa molto specie il locale chiuso però anche la pioggia di questi giorni riporta che ne so porta molta acqua al terreno io ho fatto l'orto per esempio non l'ho innaffiato dove l'hai fatto? a Varano a Varano di Valle San Giovanni poi tra breve sarà la festa del sole quindi è come se in realtà il tempo ci sta preparando veramente la voglia e il sole a ritrovare il sole perché infatti sabato sarà la festa del sole torna il bel tempo e torna il bel tempo ma non a caso sarà una giornata di sole sta temprando gli animi il clima e quindi noi diciamo mi sono pronto ad essere temperato certo è anche vero che questa pioggia un attimo gli umori come dicevo meteoropatico oppure non so se si dice così io l'ho inventato no non l'ha inventato la meteoropatia esiste a me un meteorologo montorriese mi disse che essere meteoropatico significa avere proprio una patologia spero di non dire fesserie meteoropatico è la persona con la malattia chi è sensibile è meteosensibile è una cosa del genere dunque chi è sensibile ai cambiamenti climatici è meteosensibile meteoropatico meteoropatico purtroppo è una patologia vera insomma legata sia anche al tempo ma è una patologia vera e propria insomma da curare invece meteosensibile è quello che magari trova la pioggia diventa triste c'è il sole ed è allegro dunque tu credo che tu sia a meno che non impazzisce urli quando c'è la pioggia sei solo meteosensibile 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 mi piace questa cosa volevo ricordare questo perché oggi dai dal laboratori di recupero al valoratorio dare valore alle ore attraverso l'arte di vivere e valorizzare il quartiere tra l'altro in questo periodo grazie anche a Teleponte quindi si sono vendute le casette degli anni quelle basse che sono a Piazzetta del Sole che sono a Piazzetta del Sole c'è stato il signor Rodolfo e Fabrizio sì erano disabitati c'era qualche abitante riabitante abusiva c'era qualcosa c'era qualcosa e però adesso verranno ristrutturate quindi la nostra operazione di sensibilizzazione sta portando dei frutti e si sta andando avanti infatti abbiamo conosciuto il signor Rodolfo che poi ci ha raccontato tutta la storia di com'era quando c'erano le case che era pieno il quartiere era pieno di vita e il signor Rodolfo ha comprato la casetta no e ha ereditato il signore che l'ha venduta poi c'è la signora Giuliana pure che ha abitato lì e ci ha raccontato che c'era una solidarietà siccome noi cerchiamo solidarietà in come dire in interscambio tra generazioni vi dicendo diceva anche le persone per bene chiusavano quelle che magari facevano altri mestieri no che lì c'erano e quindi c'era proprio una una interdipendenza un quartiere vivo fertile ed è quello che si sta piano piano riuscendo a fare e anche l'organizzazione e quindi per il valoratorio ci permette di riorganizzare la latta per esempio diventano posaceneri e la creazione di aiuole perché ci sono anche dei piccoli angoli fatti con le mattonelle apposta che non vengono curati cartelli informativi la cosa importante dei cartelli informativi cosa sia che vale per alcune opere che sono lì ma sia per quanto riguarda le cicche perché noi non ci rendiamo conto parlo proprio per tutti i fumatori di sigarette col filtro giallo quelle lì e sono ogni volta che la baciamo baciamo il mito americano baciamo questo filtro giallo ma ogni volta che la buttiamo così si seminano 200 anni di inquinamento perché non sono non si distruggono non si distruggono subito sono fatti di plastica praticamente di un filtro e poi cosa proponete dove noi stiamo mettendo li recuperiamo sì poi giovedì 19 c'è un discorso sull'autodeterminazione culturale in quanto andremo incontro a delle scelte importanti che sta facendo la comunità europea per noi ma che sui territori obiettivamente dovrebbero essere discussi da tutti quella sia dei semi quella dei semi OGM che è una cosa importantissima da affrontare visto che la provincia è così sensibile anche al fiume e all'inquinamento del fiume hanno fatto questo grande progetto europeo con il quale spero di confrontarmi tra breve perché le acque perché sono inquinati i mari perché i fiumi vengono inquinati ma i fiumi come vengono inquinati? vengono inquinati da chi è agricoltore paradossalmente l'agricoltore inquina i fiumi non so le aziende prima di tutto adesso ce ne sono rimaste poche di industria però quelle che c'erano le hanno inquinato ma anche i diserbanti e i concimi chimici diciamo che alimentano l'inquinamento delle acque e quindi pure la e quindi dovremmo rifletterci un po' tutti se vogliamo continuare a fare il bagno al mare l'estate già quest'anno già quest'anno è molto non si sa adesso le acque sono tornate pulite di botta quello può succedere mi spiegano ci sono dei fattori le correnti in indonesia adesso troviamo tra l'altro un messaggio siamo tornati ci piace però è lungo allora ce l'hanno messo nel telefonino in indonesia è stata trovata la donna più anziana del mondo e torniamo al discorso di prima la bellezza dice addirittura 157 anni e una figlia adottiva ancora in vita di 108 dunque non è nemmeno la figlia biologica è adottiva in realtà si dovrebbe dire avrebbe 157 anni perché le autorità indonesiane dicono che sia nata nel 1853 ma i suoi documenti di nascita sono stati distrutti dai comunisti nel 1965 ad oggi quindi non ci sono pezzi di carta che attestino la veneranda età da Guinness dei primati della donna approvarla però c'è la figlia adottiva che di anni ne ha 108 che assicura sulla reale età della madre io ringrazio chi ci ha scritto questo messaggio perché è bellissimo intanto ci dà un'informazione e ringraziamo ovviamente tutte le persone che ci danno delle informazioni ma è scritto proprio bello è bella la storia di queste due donne la figlia adottiva dunque non con lo stesso sangue della mamma evidentemente visto che non c'è un rapporto di parentela tra le due se non per il fatto che sono mamme e figlie adottive lo stile di vita in questo caso è la prova provata di quello che diciamo uno stile di vita corretto una zona magari non inquinata porta a vivere molto però siamo sempre in Indonesia è una zona evidentemente eh ma lì vivono ancora in mezzo la giungla le cose però se tu ci pensi Matusalemme si dice se è vecchio Matusalemme probabilmente aveva pure 400 anni 500 anni è il mito di Matusalemme poi Il Lander insomma è un film che fa parte della nostra epica come Neo dire Neo Neo io ho detto questa cosa importante nella poetica dell'economia poetica è al di là di Dio al di là di noi al di là di io c'è Neo l'elettricità del presente no? e quindi questo è eterno Neo eterno noi siamo parte dell'eternità e quindi qualcosa ci arriva da lui anche noi siamo eterni perché dopo la morte c'è la vita eterna per cui noi siamo come Matusalemme vivremo per sé siamo i Lander vita terrena e vita celeste e vita ultraterrena qui siamo i Lander tutti quanti cambiamo solo dimensione poi solo ecco venerdì che c'è ricordiamo questo poi ci dobbiamo salutare venerdì c'è costruiamo tracce spero che venerdì sia una bella giornata alle 18.30 per la camminata ma la gente partecipa a queste iniziative Mario? è un po' che te lo volevo chiedere quanta gente viene quando fate queste iniziative? dipende dipende si si vengono poi ci sono dei ragazzi che vengono tutti i giorni simbolici sono 4, 5, 3, 2 però vengono vengono perché comunque per esempio c'è una ragazza che da poco viene e proprio dice io non so che fare io qui sento che ho molte cose da fare da imparare è bella questa cosa e si noi non puntiamo la quantità ma la qualità cioè la spinta deve essere interiore perché soprattutto non ci deve venire perché ci vuole venire ah sì perché uno vuole comprendere queste cose e quindi ci ringraziamo io ringrazio veramente te le po' ringrazio Teramo tutte le persone che ci sono sopra che ci vivono che ci camminano che mi dicono bene che dicono male affinché piano piano anche questo stemma che ci portiamo dal passato lingua biforcute nelle due lingue biforcute col compasso si possa togliere questo anzi qui lo dico e poi lo faccio lo togliamo togliamo sto compasso dalle lingue e che le lingue siano serene di comunicarsi ecco e di ringraziarsi per ringraziare ecco una cosa bella un aneddoto la differenza tra prendere e ricevere e ricevere qual è la differenza tra prendere e ricevere magari la prossima volta lascio a questa lasciamo a questa mercoledì prossimo spieghiamo la differenza tra prendere e ricevere e ricevere e invito tutti comunque come diceva lei a donare a donare qualcosa anche una parola un saluto sono d'accordo sono d'accordo è un primo gesto di economia solidale salutarsi anche se a volte in questo mondo di fretta non ci salutiamo nemmeno ci vediamo quando ci incontriamo Mario io ti saluto buona giornata e noi ci vediamo mercoledì prossimo adesso andiamo in pubblicità e poi ci salutiamo con idea Capuani grazie eccoci di nuovo insieme è tornata a trovarci Ida Capuani che la ritroviamo eccola qui buongiorno bentornata Ida come va? ci aggiustiamo ma qui tanto quando si fa il cambio di ospiti è sempre piuttosto veloce per cui gente va gente viene e ogni tanto una maglietta rimane rimane borsa rosa che contiene? aspetta condiene la vita di papà ok allora vediamo la vita di mio padre e tu una bella e tu voglio far vedere lì un putt'amico oddio quando sono carini allora partiamo però dal papà cioè dall'antico e poi passiamo ai ragazzi moderni questa che cos'è Ida? papà no no aspetta che qui non c'è però c'è una ah no no ecco ecco allora eccolo qua oh sì questa era la trombetta con cui come si dice gettava il bando aspetta ma ti faccio sentire occhio occhio facciamo vedere si ha detto il pubblico arrivate tutte quelle tè di pesce merluce rosciolla bongle e paparazzi ma questo è quello originale di papà sì 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 quello di papà è quello di papà vero? una volta la capivo perché mi cacciò lo sposa a me gliela squacchiva ma tu tuo padre l'hai perso a che età c'è a che quanti anni c'avevi? 75 anni papà no ma tu quanti anni avevi quando è morto tuo padre? era eri giovane tenevano 13-14 anni giovani e la mamma ancora prima l'hai persa? mamma tenevi 5 anni con il singolo mamma dunque tu sei rimasta orfana a 5 anni 5 anni di mamma e di due genitori a 13 anni appunto c'è morto in collegio io c'avevo 5 anni mia sorella 3 anni c'è morto a Giuliano l'ele suore lì capoluna eppure io ringrazio all'istituto che mi ha imparato tutto e vabbè ma era un modo anche per sopravvivere perché prima c'era la povertà assoluta se una famiglia rimaneva senza mamma si moriva di fame si moriva di fame perché chi il padre per quanto bravo potesse essere il popolo lì ci abbossa la cosa il cappello il popolo di Roma Roma ah era un giornale sì dunque lui era vestito così da banditore da banditore vestito così faceva pure il giornaleio eh ma il giornalaio di una volta il giornalaio che si vendeva ma non era come oggi il giornalaio di una volta nel senso che il giornalaio di una volta portava i giornali direttamente in giro insomma non c'era l'edicola come ci sta oggi no era un giornalaio che portava i giornali ho capito eh vabbè era un bel mestiere comunque ci ha campato la famiglia lui ecco è un giornale di gioia a Carmine sì sì allora si andava perché alle 4 cominciava la messa alle 4 che diceva alle 4 del mattino prima ora no oggi no ma oggi alle 4 di mattina la vita è cambiata alle 4 di mattina c'era chi andava a messa era la prima messa sì e allora lui ecco qua la foto del papà ecco ecco vedo il bello papà vedo 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 allora dicevamo alle 4 di mattina cominciava la messa portava il lutto era di mia mamma ah il bottone che vedete no questo qua sì quello più grande quello è il famoso bottone al lutto che mettevano gli uomini quando avevano il lutto in casa le donne si vestivano di nero gli uomini invece mettevano il bottone ma non si usa più se non nei piccoli paesi è vero? sì sì è vero noi le donne sono io ho avuto una nonna che è rimasta vedova che è soglietta alla gita ha portato il lutto tutta la vita ecco qua eccolo qua questa che gita è? la gita del suor sta scritta Giorgio Fanelli no no questo è lo fotografo benvenuta a santuario dell'amore misericordioso ecco che sarebbe che suorai madre speranza di Gesù è una beata c'è stata la beatificazione il 31 maggio e ci ha detto pure il Papa se ci sta pure il Papa alziamo la foto alziamo la foto facciamo vedere il Papa ah ecco però il Papa con la suora che è Giovanni Paolo II non il Papa Francesco non il Papa di adesso eccolo qua la foto con la suora che è stata beatificata lei sotto sì sì come no e questa gita quando l'hai fatta? l'ho fatta venerdì scorso ah ma te ne fai di gitarrelle sì sì ma dopo mi hai chiamato pure Osvaldo due volte non è piove tu hai stanza purtroppo non si possono fare le manifestazioni in questo periodo perché questo no la fotografia di lui aiuto ecco no volevo prima finire con il Papa se qui c'è qualche fotografia no 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 ah qua c'è una bellissima foto di Ida immagino con il marito vero? sì eccola qua la facciamo vedere questa è con in braccio un bambinello Ida sì sì e qua di quanto tempo fa? eh però tu sei sempre sempre no purtroppo non c'è scritto sempre uguale sempre sempre uguale Ida proprio non è cambiata di niente i nipotini vestiti da carnevale tu ce n'hai di nipotini? guarda quanto è bello se ne puoi da me davvero ce n'hai? ne tengo 12 di nonne e 16 nipoti ah mamma mia e dove che vivono quelli quelli più cioè quelli che vivono più lontano dove ce l'hai? eh questa è la cosa del papà? sì sì adesso lo leggiamo intanto facciamo vedere una cosa alla volta ecco qua ecco Giancarlo che ci fa vedere i nipotini sono carini dunque ricordi questi sono quali nipoti sono? ecco ci sta quello solo vedete questa è un'urra per me è un'urra eccetto e che cosa fanno con la nonna? sempre con la nonna beh me lo immagino questo è quello grande che ci sta forse un po' meno perché quelli più grandicelli insomma sono un pochettino più autonomi c'è un articolo Abruzzo oggi quotidiano della regione della poesia di Cancellieri l'omaggio di Teramo al banditore Capuani questo di che periodo è? sarà venerdì 22 settembre 2006 quasi dieci anni fa otto anni fa eh 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 la trombette che penne all'humore vabbè qua c'è tutto in vernacolo la poesia che ricordiamo sempre con grande affetto eh Cancellieri che purtroppo non c'è più dunque questa poesia che Lucio Cancellieri ha scritto per ricordare il banditore Teramano che era il papà il papà eh di Ida ah che si chiamava Almerindo Almerindo detto proprio Almerindo questo lo nome nessuno lo tè no è un nome ma lo chiamavano Almerindo Almerindo il padre del mio padre era direttore di lì carcero lo ho sempre detto zio del famoso Mario Capuani eroe della resistenza Teramano dunque Mario Capuani quello è il mio cugino carnale sì Ligio Ligio fanno la segnalazione un tempo durante la seconda guerra mondiale un gruppo di giovani Teramani inseguiti dall'esercito tedesco in ritirata trovò la salvezza grazie al banditore Almerindo Capuani che riuscì a metterli in salvo in uno scantinato dunque li aiutò li fece entrare in questo scantinato e li salvò dalla morte sì poi a quasi 50 anni dalla scomparsa del nostro amato concittadino la città di Teramo lo ricorda nelle sapienti poesie di Lucio Cancellieri che poi si parla delle poesie di Cancellieri ricordiamo questo episodio di tuo padre voi eravate nati no? quando lui salvò queste persone quando successe? io potevo tenere 13-14 anni allora venne una signora e disse Capua tutti un cervello buono perché nasconde mio figlio da 1 a 10 però lì facevano pure che rischiavano pure che se li trovavano ammazzavano pure tuo padre ecco là la casa dove stavamo noi vicino all'ambiteatro che ancora non cadeva le case no? che faceva? ci stava una grotta che girava tutta Teramo io avevo per fine io e mia sorella su sotto Monsignore con la candela perché là ci stava una volta le sue di cravosura e di effetti ci stava la cosa da San Giovanni a Biastezia la ci stava se voi facete casa guardate sopra ci stava tutte fenestrelle via Stasio via Stasio allora venne la signora dice capoe tutti le cervello buono perché non mi nasconde un figlio perché se no c'era lì tedesco perché appelliggio allora gli disse papà se qualcuno fa le vani invece qualcuno era 10 10 figli no 10 10 persone di famiglie diverse allora gli disse le figlie amiche vanno a contendessa adesso c'è la grotta la grotta c'è la grotta nascondata per lei che io mi metto i cartoni ma si è partolita la gatta perfetto dice ma i figli ma ci mettono la cosa per non perdonare ma quelli non ci andavano a controllare se vedevano i cartoni che ci mettevano ad entrare allora che fece il signor mi ho perso nevole una cosa noi diciamo il bracio e si scala per lei allora nascono stigioni e si andò schiuffa diciamo madonna ero quindi non erano tedeschi ero un fascista e due tedeschi ma certi sacramenti diceva papè quando lo vado dice io qua non ho fatto niente faceva papè io qua non ho fatto niente capo ecco ti guarda gli dice stu fascista deve tenga guarda e guarda e gli girono tutti di parte ma scappa la gatta dallo canastro dice cosa c'è cosa ci sta là ci sta lì a tutti gli diceva papè la terramena allora che fece mentre che chi gira tutti di parte scusa dell'espressione vabbè all'etimba ci stava il gabonetto come ci stava bagno e soprabbagno l'etimba ci stava la cungarella domenica che passeva tutte le mattine una persona che la spuglieva questa diceva la cosa per la campagna lo cungimo per la campagna però quella è la verità e stava un bello cupetto con un bel sacco e allora lui ha detto tutti i pezzi ci stavano in c'è gli sa fece un colpo gli dice cosa c'è dice cosa ci sta là gli dice papè ci sta lì buon bambino allora va là quando è zollosec gli sa così scappò quella fu la fortuna del mio padre perché non andò avanti non andò avanti ma girò tutta la casa è stato salvato dalla quella cosa che questo non si può dire che dentro aveva quella cosa che questo non si può dice però l'abbiamo capito tutto però qualcosa serve anche non so la congima diceva lui la cungarella l'ha salvata anche perché se scopriva che nascondeva fucilavano i ragazzi ma anche buon giorno Rita e Mario ci sta una io sono sconvolto da quella bestia che ha ucciso la moglie e i figli piccoli solo perché amava un'altra Ida ma una volta succedevano pure queste cose io credo che purtroppo gli omicidi dentro le famiglie succedevano pure se ne sapevano di meno perché adesso insomma con i mezzi di informazione le cose si conoscono ma succedeva anche prima insomma c'erano dei delitti in famiglia oggi a terra mi successe una cosa sola che mi ha messo in prezzo la squartatrice Erina Cosme sono altri altri libri molto famosi riportati da Serpenti ho 60 anni ricordo il suo papà che suonava con quella trombetta per via Stasio svegliava tutti però e cominciava alle 4 e mezza alle 5 svegliava sì tutti grazie signora buongiorno signora ragione Dorotea sono la figlia di Ida allora è la figlia di Ida mi chiamo Anna Rita e Anna Rita confermiamo che è la figlia sì sì per l'inverniera Giuliano saluto la mia mamma con tanto affetto ciao mamma un bacione grande da tutti noi ovviamente la famiglia di Ida che è numerosissima grazie ha un grande affetto per Ida che è veramente un ciclone nel bene e nel male perché qualche volta lo devo dire la mattina qualche volta mi fa anche arrabbiare però oramai abbiamo un rapporto tale che ogni volta come se fossimo mamma e figli mamma e nonna e nipone e 12 anni che vengo qua appunto appunto quando mi fai arrabbiare Ida poi io mi arrabbio e poi tu ci rimani male allora ogni tanto come si fa nelle famiglie quando insomma con io con mia nonna con mia mamma ogni tanto ovviamente come tutti e come immagino anche Ida con le sue figlie e i suoi nipoti ogni tanto qualche discussione ci esce pure però va bene così quando ci si vuole bene va bene pure così l'altro giorno incontrei una signora che tu conosci mi sembra che è la zia tua non mi raccomando come si chiama dice quando ero guaione piave le butti ci metteva le citturelle la donna la buttava la mamma è sicuro che era qualche parente mio perché io era la zia ma pare come mi disse io ero talmente amante degli animali che raccoglievo tutti gli amanti e li riportavo a casa mia mare e mia nonna erano disperate perché a casa riportavo topi riportavo lucertole per fortuna non c'erano animali pericolosi e non riportavo pure allora quando dopo passò gli tedeschi se ne andarono papà gli disse raggiungo ma è ora che vanno a ria perché ci sta il coprofuga allora che gli sciò che può aiutare ringrazio di vero coro disse e se ne andarono uno se ne andarono insomma le mamme se ne andarono da Teramo se ne andarono sul monte alla montagna se no la ciappavo lì quando dopo fu che papà da Pugio pensava di più li incontrarono chi sto qua la ciappavo papà lo mettono capritto capo noi siamo sempre portati perché se ne ero tu a noi ci ciappavo ci portavo in Germania e ci accedeva capite era avvocato ingegnero artista erano tutte persone per bene capite poveri chi lo toccava papà papà disse io tengo pure le figlie la cosa la russia è stato prigioniero sta prigioniero che si mangiava lo bello fratello mio le bocce delle patate perché ci stavano mani che erano prigionieri è stato là una cortina quando le cose le cucinieri gli avevano la spazzatura tutte le cose le avevano capite ecco dove siamo arrivati la fame nera però mio fratello ha 92 anni complimenti viva a Teramo quello ha fatto quello ha fatto il pallone era un campione me lo ricordo me l'hai raccontato più volte era un grande giocatore anche da Teramo un grande giocatore e quell'altro pure finuccio pure ma tutte le donne sta bene però Dio li benedica insomma qualche acciacco a 90 e passi anni si possono però le gambe no ma la testa si quella ti dice le cose il passato evidentemente purtroppo sono stati penalizzati nel fisico ma per fortuna dico sempre che è meglio quando uno è anziano meglio avere la testa lucida magari con qualche difficoltà di movimento e non perdere la ragione perché io ne dico la coccia lucida no tu non solo a parte tu sei giovane la coccia lucida è pure il movimento non ti firma un attimo dunque Dio ti benedica ma tu hai un fisico che secondo me non ti ma io ti tengo a portare quelle delle donne la pesce delle donne però la ti da matta è una cosa che non ci puoi credere io ci credo non ci puoi credere ci credo ci credo mi dice a me Osvaldo mi fanno segno che ci dobbiamo cominciare a salutare mi dice Osvaldo dici Ida dici tu quando hai due anni sempre piccolina perché Ida poi dico lo fa sete mi dico il presente ecco qua si muove come un grillo piccola e scattante però pure Ida insomma Dio la benedica sta veramente in grandissima forma anche di coccia purtroppo di coccia noi la salutiamo con un grande affetto la ritroviamo mercoledì prossimo saluto anche voi e vi ringrazio per l'attenzione prima di tutto torna domani mattina con Serena Suriani grazie buona giornata grazie a tutti quanti grazie grazie a tutti